54 televisori a tubo catodico che creativi e designer ieri hanno reinventato trasformandole in opere d'arte. L'Urban Art Meeting 2015 al Met di Marina di Ragusa ha visto all'opera gli artisti con gli strumenti più disparati come seghe, trapani, vernici, bombolette, spray, carte e stoff. E così il televisore si è trasformato da contenitore di immagini a generatore. Le tv hanno preso la forma di alveare per le api o di mine abitazioni di design. Ogni artista insomma ha dato la sua personale reinterpretazione lanciando anche messaggi provocatori sulla società dell'immagine. Le opere si trovano ad esse in mostra sulla facciata esterna del Met dove sono state sistemate dagli uomini arrampicatori dell'associazione Scini Duoco. Una mostra d'arte urbana a cielo aperto che si potrà ammirare fino al 23 agosto data in cui verrà proclamato il vincitore che si aggiudicherà il soggiorno al museo albergo Atelier sul mare a Castel di Tusa. Nella stessa giornata si terrà un'asta aperta a tutti e in cui ciascuno potrà giudicarsi la sua opera preferita. Ma intanto il pubblico è invitato a indicare la propria opera favorita votandola con un like nell'album fotografico che nei prossimi giorni racchiuderà tutte le opere all'interno della pagina facebook del Met. L'opera con più mi piace potrà giudicarsi infatti quest'anno un premio a sorpresa.